Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione dalla provincia di Sondrio. In apertura la cronaca, incidente mortale nella notte tra sabato e domenica a Montagna e Valtellina. La vittima è Giacomo Grillotti, 58 anni, conosciuto per il suo impegno nel Sondrio Rugby, di cui fu giocatore, capitano e allenatore. Chiusa la nuova esperienza di Vigno per i ragazzi on the road impegnati a fianco di Forze dell'Ordine e Polizia Locale, nei controlli del territorio, spazio anche alle esercitazioni con il soccorso alpino. Chiusa con successo la seconda edizione della Valgrosina Trail che si è corsa sabato con partenza e arrivo a Grosio. Sulla distanza dei 70 km della gara regina vincono Daniel Jung e Gwendalina Sibona. Questi erano i titoli, ora vediamo il nostro. Un notiziario grande cordoglio a Sondrio per la morte di Giacomo Jimmy Grillotti, vera e propria colonda del Sondrio Rugby, morto nelle prime ore di domenica mattina in seguito a un incidente con il suo scooter. Poco dopo l'1.30 di notte, l'altezza della rotonda del trip in Montagna e Valtellina, Grillotti è uscito di strada colpendo un ostacolo e finendo a terra. Immediati soccorsi e il trasferimento dell'uomo all'ospedale di Sondrio, dove però è deceduto qualche ora dopo. Dopo 58 anni, Jimmy Grillotti era stato giocatore, capitano e anche allenatore del rugby Sondrio e proprio nella prossima stagione era atteso il suo ritorno sulla panchina delle giovanili. A fianco dei giovani regbisti, il primo e più intenso ricordo viene lasciato proprio dalla società sportiva. Se ne va un pezzo della nostra storia, scrive il gruppo giocatore, allenatore amico. Vicinanza anche da parte del Comitato Lombardo, della Federazione Rugby, delle tante associazioni sportive della provincia e non sono impegnati in questo sport e anche dalla nuova Sondrio calcio, che ricorda Grillotti come una delle colonne del sport in provincia. Vediamo ora gli altri servizi del nostro notiziario. Intervento notturno per il soccorso alpino della stazione di Morbegno, che tra domenica e lunedì è stato impegnato nella ricerca di un escursionista, ritrovato illeso, che aveva perso l'orientamento sopra Tartano. L'uomo stava rientrando da un'escursione quando si è staccato dal gruppo di amici che lo accompagnava. Sono stati loro a chiedere aiuto e far partire le ricerche intorno alle 21 di domenica. La centrale ha attivato le squadre del soccorso alpino di Morbegno, della Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. 12 i tecnici del soccorso alpino impegnati. I soccorritori hanno battuto i sentieri della zona e poche ore dopo l'uomo è stato ritrovato. Lo hanno accompagnato all'ambulanza, poi è stato portato in ospedale per accertamenti. Nella giornata di domenica la stazione di Morbegno ha ricevuto altre tre attivazioni. In due interventi ha risolto l'elisoccorso di Areu da Sondrio e da Bergamo. Il terzo intervento riguardava una donna che si era infortunata mentre era in una baita sopra Bema. Le squadre sono partite. Nel frattempo è arrivato l'elisoccorso che ha concluso l'intervento e portato la donna in ospedale. Spazio ancora la cronaca. Un 23enne italiano è stato arrestato dai carabinieri della sezione raddomobile della Compagnia di Sondrio per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella notte di domenica, durante un controllo nel centro città, i militari hanno fermato l'utilitaria con a bordo un ragazzo che dalla perquisizione è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish. La perquisizione è stata poi estesa all'abitazione dove c'erano altri 250 grammi di droga, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Il 23enne si trova in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Vediamo ora gli altri servizi in scaletta. Un fondo di 140 mila euro per incentivare lo sviluppo di interventi di efficienza energetica, l'introduzione di fonti di energia rinnovabile e la partecipazione a comunità energetiche rinnovabili. L'agevolazione viene dalla Camera di Commercio di Sondrio e consiste in un contributo a fondo perduto pari al 70% delle spese ammissibili, con un contributo minimo di 2.100 ed uno massimo di 8.400 euro, con conseguente investimento minimo previsto pari a 3.000 euro. Il bando finanzia l'acquisizione di servizi di consulenza e formazione, forniti da figure altamente qualificate e competenti, finalizzati a favorire la razionalizzazione e la riduzione dell'uso di energie da parte delle imprese e l'implementazione di sistemi di autoproduzione di fonti di energia rinnovabile anche attraverso la partecipazione delle imprese alle comunità energetiche rinnovabili. Sono perciò ammissibili a contributo le spese per la realizzazione di audit energetici e per l'analisi delle forniture di energia, finalizzati a valutare la situazione iniziale dell'impresa e a individuare le opportunità di risparmio e miglioramento energetico, i costi di implementazione di sistemi di gestione dell'energia, gli studi di fattibilità per progetti di riqualificazione energetica e quelli per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Ammissibili anche i costi per l'implementazione di tecnologie digitali e 4.0 e le spese per l'acquisizione temporanea del servizio esterno di energy manager a beneficio dell'impresa, così come attività di formazione finalizzata al conseguimento della qualifica di energy manager per risorse interne. La transizione energetica rappresenta una sfida fondamentale per il futuro sostenibile del territorio e delle imprese, commenta la Presidente della Camera di Commercio, Loretta Credaro. Si tratta di una sfida che richiede interventi strutturali importanti ma che allo stesso tempo potrà generare anche nuove opportunità di business. Con questa misura puntiamo perciò a incoraggiare le imprese a intraprendere questo percorso, finanziando servizi di consulenza e formazione, volti a ridurre il consumo di energia e l'autoproduzione di fonti rinnovabili. L'iniziativa si rivolge alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Sondrio. Le domande di contributo potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica all'interno del sistema web telemaco di Infocamere dal 25 settembre al 15 dicembre. Sicurezza sulle strade ma non solo quest'anno per i giovani che hanno preso parte alla tappa di Livigno del progetto Ragazzi on the Road. Si è appena conclusa l'esperienza di una ventina di loro con gli uomini della stazione di Livigno del soccorso alpino nella simulazione di un intervento proprio come accade nella realtà. La simulazione è cominciata con due ragazzine in difficoltà che chiedono aiuto. Alcune persone sentono le loro grida ma non riescono a vederle e così chiamano il 112. La centrale allerta il soccorso alpino, i ragazzi on the road si preparano proprio come fanno i soccorritori. Preparazione dell'attrezzatura e poi partenza per verificare cosa sta succedendo come in una vera battuta di ricerca. Tutto questo assistiti dai tecnici del soccorso alpino che li hanno aiutati a interpretare le informazioni ricevute e a trovare le coordinate geografiche delle persone da soccorrere per poi effettuare la prima valutazione sanitaria, mettere in sicurezza l'infortunata e trasportarla in barella fino al mezzo di soccorso. Il progetto Ragazzi on the Road è un'esperienza per studenti dai 16 ai 20 anni che ha lo scopo di accrescere la consapevolezza verso tutti gli aspetti del pronto intervento come la gestione delle emergenze, i pericoli della strada e l'educazione alla legalità mettendosi nei panni dei soccorritori e dei rappresentanti delle istituzioni. A Livigno, oltre al soccorso alpino, i ragazzi hanno operato con Polizia Locale, Carabinieri Forestali di Bormio e Croce Rossa. I ragazzi stanno dando informazione, stanno supportando la Polizia Locale ed è bello vedere i nostri giovani di qua, dalla barricata, capire cosa vuol dire essere al servizio di tutti i cittadini. Devo fare complimenti a questi ragazzi che si sono messi in gioco, spero che lo possano fare tanti altri perché credo che capire anche come gli enti o la Polizia o i Vigi del Fuoco o il soccorso alpino supportano i cittadini, supportano il paese, sia importante. Però i tanti giovani hanno tanta voglia e quindi sono molto molto contento. Il progetto, uno dei più importanti che abbiamo a Livigno è quello di creare sinergia tra i giovani, tra gli enti e devo ringraziare tutta l'organizzazione di ragazzi on the road perché quando siamo partiti erano scommessa, oggi lo stanno facendo altri paesi e quindi è stato bello che l'Ivigno è fatto da modello. Noi continueremo in questa direzione perché, come dicevo prima, vedere i ragazzi anche dopo questa esperienza portarsi a casa un bagaglio importante di positività è fondamentale per il futuro dei nostri giovani e i futuri della nostra comunità. I grandi nomi del trail running, un percorso duro ma bellissimo e condizioni meteo che hanno regalato il sole nel finale segnano questa seconda edizione della Valgrosina Trail. Nella gara regina da 70 km il testa a testa finale tra i due atleti altoatesini si è concluso con la vittoria per un centesimo di Dani Jung su Georg Piazza sotto l'arco del giardino di Villa Visconti-Venosta, terzo Sergio Pereira. Una battaglia molto dura con Dani Elogi, Dani era molto forte, era lui sempre che provava ad attaccare, mi staccava ma io ero cocciuto e riuscivo sempre a tornare lì sotto. e questo era un po' tutta la gara così e alla fine quando mancavano ancora un paio di chilometri all'arrivo abbiamo detto ma adesso se non siamo riusciti a staccarci fino adesso allora non rischiamo di farci male questa ultima discesa che era anche un po' tecnica e scendevamo come dei matti e abbiamo deciso di andare all'arrivo assieme. Combattuta anche la gara femminile che si è risolta soltanto nella seconda parte. Prima sulla cima del Monte Storile Francesca Crippa, favorita nella vigilia, è stata costretta al ritiro lasciando campo libero a Patrizia Rusconi e a Guendalina Sibona che ha chiuso da vincitrice. Completa il podio Silvia Gilardi. Il percorso come sentieri, paesaggi, panorami veramente bellissimi, zone che non conoscevo quindi sono stata piacevolmente colpita da ogni scorcio e ogni tratto di sentiero e poi i volontari oltre a essere appunto gentili come normalmente ci si aspetta da gente che fa il volontario a un trail sono anche tutti quanti molto simpatici. Nella 38 km i big della specialità non hanno deluso le aspettative piazzandosi ai primi posti ma è stato il quattro volte campione italiano di trail lungo e bronzo mondiale Andreas Reiterer a tagliare per primo il traguardo. Podio tutto italiano nella gara al femminile con la vincitrice Martina Del Bosco che si è imposta sulle grosine Beatrice Besseghini e Chiara Franzini. Spazio ora l'informazione dalla provincia di Lecco. La calcio Lecco non poteva rispettare i termini previsti per l'iscrizione in serie B. Il Tar del Lazio ha reso note oggi le motivazioni con le quali ha colto il ricorso presentato dalla società Blu Celeste. Gli agenti di polizia locale lo hanno fermato a Ballabio dopo un sorpasso azzardato. Girava senza patente, senza assicurazione su un veicolo sottoposto a fermo, multa da oltre 3.000 euro. Lieve crescita per le industrie lecchesi nel primo semestre. Le aziende frotteggiano i ricari delle materie prime ma fanno i conti con difficoltà di accesso al credito e mancanza di mano d'opera. Questi erano i titoli, vediamo ora i servizi del nostro telegiornale. I termini per l'iscrizione fissati dalla FIGC alla luce dello slittamento dei play-off erano inapplicabili per il Lecco. Per questo il Tar del Lazio ha deciso di accogliere il ricorso della società di Via Don Pozzi e riammettere Blu Celesti in serie B. Le motivazioni della sentenza sono state pubblicate oggi in un lungo documento articolato in 28 punti. Ad avviso del collegio risulta evidente, alla stregua di una interpretazione non formalistica e di buona fede, ossia ragionevole, che termini del 15 e del 20 giugno 2023 siano stati fissati dalla FIGC sul presupposto della conclusione dei play-off in data 11 giugno, spiega il giudice Francesco Arzillo. Dunque, che impatto ha avuto lo spostamento al 18 giugno dell'ultima partita dei play-off? La risposta del collegio è netta e univoca, ha reso semplicemente inapplicabile il termine del 15 giugno, che è quello primario. Di conseguenza, viene travolto anche il termine per le integrazioni del 20 giugno, configurandosi nei confronti dell'Ecco la corrispondente inesigibilità. In parole povere, come avrebbe potuto presentare i documenti il 15 se è stato promosso in B il 18. Questa inapplicabilità dei termini originariamente fissati avrebbe auspicabilmente chiesto un nuovo tempestivo intervento regolativo della FIGC, che però è mancato, spiega il presidente del collegio giudicante. In questo modo si è verificata una lacuna nella disciplina applicabile all'Ecco, lacuna che, dicono i giudici, è stata ed è ragionevolmente colmata dall'Ecco, facendo riferimento al termine massimo di nove giorni, ricavabile dalla previsione del manuale. La società Blu Celeste, riconosce il collegio giudicante, ha ultimato gli adempimenti necessari, consegnando anche gli ultimi documenti relativi allo stadio di Padova, il 23 giugno, quindi dopo soli cinque giorni dalla conclusione del play-off. Questa ricostruzione, spiega il presidente Arzillo, nella sentenza è la sola, ad avviso del collegio, idonea a salvaguardare anche il canone della par condicio, al quale è ispirata tutta la normativa federale sui termini perentori, consentendo all'Ecco di godere in concreto e non in astratto, di un termine non inferiore a quello di cui hanno usufruito le altre società. Infine, l'Ecco avrebbe potuto muoversi prima della finale play-off per ottenere la documentazione per lo stadio? No, spiegano i giudici. Per il manuale delle licenze, prima va conseguito il titolo sportivo, poi si deve procedere agli adempimenti. Motivazioni che paiono solide e ben argomentate, l'Ecco può guardare con ottimismo all'ultimo grado di giudizio il Consiglio di Stato, che si esprimerà il 29 agosto. Martedì la Lega B si riunirà a Milano per definire anticipi e posticipi delle prime nove giornate. Lì si saprà se l'Ecco scenderà subito in campo il 19 agosto a Pisa per la prima giornata, oppure se sarà tenuto fermo in attesa del Consiglio di Stato. Eventualità questa che non dispiacerebbe alla società, visti i ritardi accumulati sul mercato a causa dei ricorsi. Spazio ora la cronaca tragedia Osnago. Il corpo di un 29enne è stato trovato senza vita all'interno di un appartamento al Civico 7 di Piazza Loreto. A lanciare l'allarme i colleghi del pubblico esercizio nel quale lavorava, che non avendolo visto arrivare, hanno allertato i soccorsi in corso di accertamento per stabilire le cause del decesso. Sull'accaduto, indagini in corso sempre da parte dei carabinieri. Fermato per un sorpasso, si scopre che non aveva l'assicurazione ed era sottoposto a fermo fiscale sul veicolo sul quale viaggiava. Sanzione da quasi 3.000 euro per un conducente straniero a Ballabio. La manovra vietata è avvenuta sulla provinciale 62 lungo all'altezza di via Cinturino. La polizia locale è subito intervenuta. Il pilota ha fornito prima false generalità senza esibire la patente. Gli agenti lo hanno condotto in questura per i rilievi. L'uomo è stato inoltre deferito all'autorità giudiziaria per false dichiarazioni a pubblico ufficiale per il mancato rispetto del testo unico sull'immigrazione. Non solo per i leciti amministrativi dovrà pagare quasi 3.000 euro, 866 per il sorpasso e la mancata copertura assicurativa a cui si sono aggiunti quasi 2.000 euro per circolazione su veicolo con fermo fiscale. Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti dalla nostra polizia locale grazie a una convenzione con i comuni di Cortenova, Premana e Magno, commenta il sindaco di Ballabio, Bussola. Questo intervento è solo l'ultimo di una serie di operazioni messe in campo nel corso del primo mese di convenzione per rendere il nostro territorio ancora più sicuro. Ed è stata ritrovata sana e salva la donna di 75 anni che nella mattinata di domenica si era dispersa in zona Pialeral subito dopo l'allarme, lanciato dai familiari, si erano attivate le squadre dei volontari del soccorso che anche a bordo di moto da trial hanno perlustrato la zona dove verosimilmente avrebbe potuto trovarsi la donna. L'anziana è stata rintracciata intorno alle 2.30 in località Grassi Lunghi in buone condizioni anche se disorientata. Lunedì mattina invece i soccorritori impegnati in Alta Valsassina per un cercatore di funghi di 72 anni che è finito in una zona impervia nei pressi del piano delle Betulle ha chiesto aiuto. L'uomo è stato soccorso e portato a valle sano e salvo. E risiedeva l'eco con la famiglia dal 1986. Il manager Luca Giuseppe Reale Ruffino, imprenditore sessantenne nel campo delle gestioni immobiliari e presidente del gruppo editoriale Visibiglia, trovato senza vita nel proprio ufficio di Milano. La procura del capoluogo ha aperto un fascicolo per il reato di stigazione al suicidio. In passato consiglieri di amministrazione di Ferrovie Nord, Ferfidi Lombardia, Fiera Milano edizioni Milano-Serravalle Engineering, Ruffino era sobbentrato nella società editoriale di Daniela Santanchè nell'ottobre del 2022, rilevando le quote del ministro. A smentire quanto circolato inizialmente, il gesto estremo del manager non sarebbe legato a questioni personali. Vediamo ora gli altri servizi del nostro telegiornale. Con l'avvento dei social network, il confine fra pubblico e privato è diventato sempre più labile. A mettere un argine a uno dei temi al centro del dibattito attuale è una sentenza della Corte di Cassazione sulla vicenda del catalogo delle donne single lecchesi. L'autore, Antonio Nicola Malongelli, aveva raccolto in un ebook i profili Facebook di oltre 1200 donne residenti nella nostra provincia che si erano dichiarate single sul popolare social network. Una pubblicazione in vendita a poco più di 6 euro al prezzo di un drink, dichiarava l'autore, contro la quale si sono schierate 8 donne inserite come le altre a loro insaputa nel catalogo. Malongelli è stato condannato un anno e mezzo per i reati di difamazione e uso illecito dei dati personali. E anche la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso dell'autore, ha sancito il verdetto. Le motivazioni sono destinate a mettere un punto fermo nel dibattito in corso sull'utilizzo dei dati condivisi dagli utenti sui propri profili social. È una sentenza importante, spiega Marisa Maraffino, avvocato che ha difeso le 8 donne lecchesi coinvolte. Un caso unico che afferma un principio di diritto. I dati personali, anche pubblici, che gli utenti inseriscono nei social network non possono essere usati per finalità diverse rispetto a quelle per le quali si è dato il consenso. È un caso di cui parleranno le scuole che crea un precedente importante affinché non si verifichino più fatti simili. Il merito vale donne lecchesi, conclude l'avvocato, che hanno portato avanti questa battaglia. Insomma, pur secondivisi in modalità pubblica, i dati personali degli utenti non possono essere utilizzati da chiunque per qualsiasi scopo. Oltre a questo profilo, la Cassazione ha poi confermato il fatto che dichiararsi single non significa essere a disposizione di chiunque. Nel catalogo di Marongeli, del quale sono state venute una trentina di copie, erano poi comprese anche minorenni e persone diversamente abili. L'industria tiene, nonostante il rialzo dei tassi di interesse, renda più difficile l'accesso al credito e nonostante si faccia sempre più fatica a trovare risorse umane per supportare i progetti di espansione. Il quadro emerge dall'osservatorio congiunturale di Confindustria e Lecco Sondrio sul primo semestre 2023. Gli indicatori riguardanti domanda produzione e fatturato, spiega Plinio Agostoni, presidente dell'associazione di categoria, evidenziano una crescita rispetto al semestre precedente, per quanto ancora modesta, mentre rispetto al primo semestre 2022, caratterizzato però da performance di poco sorprendenti, notiamo un calo medio altrettanto lieve. I dati positivi comunque non mancano, il tasso di utilizzo medio degli impianti produttivi in crescita, le dinamiche relative all'occupazione sono buone, prosegue Agostoni, ed anche dal punto di vista degli investimenti e dei nuovi progetti, le aziende del territorio indicano una sensibile vitalità. Le imprese però registrano alcuni elementi sfavorevoli, a partire dalle distorsioni lungo la catena di fornitura e dalle dinamiche di prezzo legate alle materie prime, cosa che si traduce in riduzione dei margini. L'accesso al credito è un'ulteriore dota dolente, conclude Agostoni, considerato il fatto che per tre imprese su cinque si registra un peggioramento nei rapporti con le banche, soprattutto a causa dell'innanzamento dei tassi di interesse, ma anche in relazione alla disponibilità degli istituti stessi a concedere risorse. Vi è poi il capitolo occupazione con la maggior parte delle aziende interpellate, che si dichiara disposta ad ampliare gli organici, purtroppo però in vano. Ancora una volta, sottolinea Giulio Sirtoli, direttore generale di Confindustria dell'Ecosondrio, dobbiamo annotare la domanda di risorse umane che resta senza risposta, indicata da oltre metà delle imprese associate. Un gap che contribuiremo a contrastare con una serie di progetti per l'orientamento e lo sviluppo delle competenze, che in autunno proporranno alcune novità. Vent'anni fa ci lasciava Elena Gandolfi, figura di spicco del mondo del volontariato, della politica e delle istituzioni, era stata la prima vicepresidente della provincia di Lecco. A tracciarne un ricordo, Corrado Valsecchi, consigliere comunale di appello per Lecco. Sono trascorsi vent'anni dalla sua scomparsa, dichiara ci manca il suo modo di interpretare la politica, quella più autentica e vera, senza gli infingimenti, i trucchetti che popolano il panorama attuale. Lecco è il territorio, prosegue Valsecchi, devono molto a Elena Gandolfi anche perché le sue intuizioni sono diventate realtà. Basti guardare al monastero dell'Avello di Calozio Corte, alla rinata Sala Ticozzi a Lecco, Villa Monastero a Varenna, solo per citarne alcune. I suoi libri, dettati anche dalla profonda amicizia con padre Davide Maria Turoldo, del quale divenne praticamente la biografa, le sue battaglie in campo politico, senza mai chinare il capo, essere subalterna a qualsivoglia cultura maschilista. L'epoca prevalente e dominante hanno lasciato un solco utile per le generazioni a venire. Non è mio desiderio ricordare oggi l'intero percorso della vita di Elena, concludeva a sé, voglio solo far memoria agli amici che l'hanno conosciuta apprezzata, a coloro che l'hanno magari contrastata e spesso delusa, e a quelli che hanno saputo trarre insegnamento dei suoi preziosi consigli e che hanno avuto l'avventura di conoscere e di condividere i comuni tratti di strada. Non c'è spazio per la retorica, Elena non avrebbe gradito e proprio per questo le sue opere, il suo carattere determinato, la sua autorevolezza sono un patrimonio che ci ricorda di questi tempi, come sia fondamentale mettersi al servizio di chi più ha bisogno. Sculture in legno. A Casargo quarta edizione della performance artistica. Cinque maestri all'opera per realizzare di fronte agli occhi dei visitatori incredibili sculture intagliando dei ceppi solo con la motosega. Arredo urbano per il comune, ma non solo. Questi bravissimi artigiani vendono anche le loro sculture che fanno durante l'anno. Un turista arriva con un pezzo di legno e chiede un'opera, la fanno o no? Dipende innanzitutto da che legno è, perché c'è legno e legno, e poi magari potrebbero farla. Guardi, non è facile intagliare il legno con una motosega, è molto più difficile che farlo con uno scalpellino. La manifestazione, realizzata in collaborazione con il Consorzio Forestale Lechese, vuole veicolare anche un messaggio di rispetto dell'ambiente. Vengono usati dei tronchi di alberi che sono stati abbattuti proprio nel comune di Casargo per motivi di sicurezza e pubblica incolumità. Per cui si è voluto proprio dare un segnale di far rivivere il legno tagliato per necessità, farlo rivivere nuovamente nel paese sotto forma di scultura. Qual è il legno più malleabile affinché la scultura venga meglio? Generalmente queste sculture vengono fatte con legno di conifera, il cedro o l'arice o l'abete bianco, che sono durevoli e sono facilmente lavorabili quando sono freschi. Si può usare anche il castagno che è molto durevole, però ha il difetto che tende a imbrunire, a diventare molto scuro. Però essenzialmente si usano questi legni. Ultimo giorno per visitare l'esposizione di sculture in legno presso la Sala Civica di Casargo è il 15 agosto. Una bella idea per il ferragosto. Ora l'appuntamento con le notizie dalla provincia di Monza e Brianza. Terribile incidente fuori dal tunnel di Monza. Un'auto guidata da un 25enne è uscita di strada e si è ribaltata più volte gravissime. Le condizioni della passeggera, una 18enne in prognosi riservata. Trattati della piedemontana, è iniziato il percorso per ottenere autorizzazioni esproprie. Un progetto di qualità spiega la società sindaci del Vimercatese sul piede di guerra. Operazione congiunta di carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco contro la mala movida nella zona di Bellusco. Sanzionati i titolari di due bar non rispettavano gli obblighi in materia di sicurezza. Dopo i titoli, le notizie del telegiornale. Una ragazza di 18 anni è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto nella serata di domenica 6 agosto in via della Birona al termine del tunnel di via Lelvezia. La giovane si trovava a bordo di un'auto insieme a un 25enne per cause ancora in fase di accertamento. L'auto ha prima urtato il guerrile e poi si è ribaltata più volte nella corsia opposta. I vigili del fuoco hanno estratto i due giovani dalle macerie dell'auto. Mentre il 25enne è stato trasportato in codice giallo a San Gerardo, la giovane è apparsa da subito in condizioni gravissime. Nella notte ha subito un primo intervento chirurgico, resta ricoverata in prognosi riservata. Vediamo ora i servizi del nostro telegiornale. Tratta di Della Pede Montana inizia il percorso autorizzativo e degli espropri. Avviate le procedure finalizzate a valutare l'impatto ambientale e la compatibilità urbanistica del tracciato allo stesso tempo. Il progetto è stato inviato ai comuni e ai cittadini interessati dagli espropri necessari per la costruzione dell'autostrada affinché possano esaminarlo e fare le proprie osservazioni. Autostrada Pede Montana Lombarda metterà a disposizione persone del proprio team in affiancamento ai tecnici comunali per illustrare il progetto agli interessati dagli espropri e identificare una soluzione condivisa ad eventuali richieste. Nella consapevolezza, spiega alla società, dell'importanza e della delicatezza di questa fase. Questo progetto rappresenta la nostra idea di qualità sia tecnica e tecnologica, sia di valorizzazione in chiave di sostenibilità, afferma Luigi Roth, presidente di Autostrada Pede Montana Lombarda. Ma soprattutto vede la nostra presenza forte sul territorio insieme a Cal e a Regione Lombardia per individuare le migliori soluzioni per soddisfare le esigenze del territorio e quelle funzionali legate al completamento dell'itinerario dell'A36. Da questo momento inizia il percorso autorizzativo con la richiesta al MIT di convocazione della conferenza dei servizi, prima dell'approvazione da parte del CIPES. Un passaggio ufficiale e istituzionale sulla compatibilità ambientale e urbanistica del progetto, dichiara l'amministratore delegato di concessioni autostradali Lombarde, Giara Antonio Arnoldi, che ribadisce. Il progetto della variante di tratta D risponde alle esigenze funzionali di traffico e di scenario complessivo previste con il completamento dell'infrastruttura. L'A36, nel suo assetto definitivo, completerà l'itinerario alternativo dell'A4 nei collegamenti est-ovest, grazie al collegamento con la TEM e di conseguenza con la Brebemi. Pede Montana, durissimo attacco dei sindaci del Vimercatese contro la tratta D che ha iniziato nei giorni scorsi il suo percorso autorizzativo. In continuità con lo stile indecoroso tenuto fino a oggi, alle 14.55 di venerdì 4 agosto, quando gli uffici comunali sono chiusi e tutto può passare sotto traccia. Autostrada Pede Montana Lombarda, dopo qualche telefonata e mail di avvertimento, è inviata a tutti i comuni interessati il progetto della tratta di breve. È annunciato la pubblicazione dell'avviso ai soggetti interessati da procedimento d'espropriazione, afferma il primo cittadino di Agrate, Simone Sironi, tra i portavoce della protesta. Abbiamo cercato in tutti i modi un confronto con Regione Lombardia chiedendo di essere ascoltati e proponendo possibili soluzioni alternative realistiche e fattibili, cosa peraltro dimostrata con studi commissionati dalla provincia, ricorda. Purtroppo abbiamo sempre trovato la porta ben chiusa a chiave. Nessun ascolto, Regione, APL e Cal vanno avanti a spada tratta con una variante, dice Sironi, del tutto inutile che non apporta alcuna miglioria viabilistica e che anzi potrebbe contribuire a peggiorare i problemi sull'asse est-ovest. I primi cittadini del Vimercatese sottolineano poi le criticità di carattere economico e ambientale del progetto. Noi useremo tutti i mezzi in nostro possesso, spiegano in una nota i sindaci di Vimercate, Agrate, Bellusco, Bernareggio, Burago, Caponago, Carnate, Cavenago, Ornago e Sulbiate, per impedire che tutto questo avvenga, perché abbiamo la responsabilità, tanto sul piano politico quanto sotto il profilo etico, di dare seguito all'impegno preso con i cittadini, anche al fine di proteggere il territorio e preservare la qualità della vita delle nostre comunità. Malavita notturna, operazione congiunta dei carabinieri della Compagnia di Vimercate insieme a Polizia Locale e Vigili del Fuoco, impegnate 18 unità, tra cui 10 militari dell'arma in un servizio straordinario per prevenire e contrastare la mala movida. Nel corso della serata di sabato sono stati controllati un totale di 100 persone, 12 veicoli e 3 esercizi commerciali. I titolari di due bar, uno a Cornate Dard e l'altro a Busnago, sono stati sanzionati per violazioni amministrative riguardanti gli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda la sicurezza. Entrambi i locali risultavano privi di cartellonistica e illuminazione di emergenza, mancava anche la manutenzione degli estintori. I titolari sono stati invitati a esibire direttamente negli uffici dei Vigili del Fuoco la documentazione necessaria, tra cui il documento di valutazione rischi, attestati antincendio, registro antincendio e certificazione di conformità dell'impianto elettrico. Segnalati due cittadini romeni residenti nel Vimercatese per manifesto ubriachezza in luogo pubblico. Entrambi sono stati trovati all'interno di uno dei bar controllati. Inoltre è stata contestata una violazione al codice della strada a un uomo italiano di 55 anni, sorpreso alla guida in stato di ebrezza. Aveva un tasso alcolemico di quasi due grammi litro. La patente riguida gli è stata ritirata, il veicolo confiscato. E Monza piange, il maestro Gino Arosio, il noto organista, si è spento serenamente all'età di 96 anni nella sua casa del quartiere Cederna. Molto conosciuto in Brianza ha organizzato centinaia di concerti e di eventi musicali. A Monza i funerali si celebreranno martedì 8 agosto alle 14.30 nella chiesa del quartiere Cederna. Vediamo ora gli altri servizi. Da Gerry Calà ai cugini di campagna, ma anche eventi per bambini, momenti per ballare con grandi orchestre e buona cucina, fino al gran finale con i fuochi d'artificio. Si prepara a tornare con la sua 34esima edizione, la festa popolare Madonna della Campagna, in programma al Parco Feste di Via Cagnola, a Seregno, nei primi due weekend di settembre. Anche per l'edizione di quest'anno, parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza e si uniscono alla realizzazione dell'evento tante realtà associative del territorio. È una festa che ormai è entrata nella storia della Brianza e soprattutto nella volontà di tutti di partecipare. Saranno tantissime serate e tantissimi momenti per tutti, dai bambini fino alle persone più adulte, troveranno da noi qualche momento di pensieratezza. Avremo Gerry Calà ai cugini di campagna, la serata 70-80-90, la grande fiera del bestiamo, i fuochi d'artificio, insomma un calendario forse senza precedenti per una festa che vediamo e speriamo lascerà il segno. Una festa che ogni edizione attira migliaia di persone, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell'estate Brianzola. È una festa che cresce ogni anno di più, che è giunta alla 34esima edizione, fatta da gente che veramente dà l'anima, che è una delle pochissime cose che non si è fermata neanche durante il Covid, che pur con tutte quelle procedure un po' matte in quegli anni è riuscita a confermarsi quando quasi tutto si era bloccato. Continua a crescere, è uno dei punti di riferimento più grandi a livello di feste popolari dell'Abrianza, che attira qui letteralmente decine di migliaia di persone, ma nello stesso tempo è rimasta festa di quartiere, festa di popolo, festa identitaria e per l'amministrazione è scontato essere a fianco, supportare nel migliore dei modi e dire anche proprio la gratitudine per il fatto che si riesca a coinvolgere mondi molto diversi, si riesca a coinvolgere tantissime associazioni del territorio, a fare rete e a mostrare qui tutte le realtà e a promuoverle che fanno del bene, che fanno del bello per la nostra città, culturali, sportive e del volontariato sociale. Termina così questa edizione del nostro notiziario, vi ricordo la possibilità di rivedere tutto ciò che è andato in onda sui nostri social e sul sito di Unica TV. Grazie ancora per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni di questo telegiornale. Grazie a tutti.